ciao a tutti sono qui con il dvd dell'ultimo concerto tenuto dagli exo exoplanet 5 exploration questo è il fronte, qui abbiamo il retro, qua ci sono tutte le tracce, i contenuti eccetera eccetera ok allora aspettatevi la fotocar è messa avanti adesso la tolgo sperando di vederla neanche come faccio a toglierla così ok ce l'ho fatta esatto la fotocar era inserita qua dentro allora che abbiamo i due dvd che paura disco 1 e disco 2 uguale non lo tolgo perché ho paura di spaccare qualcosa perché è in plastica qui apriamo oh qua c'è scritto qualcos'altro exploration e qui c'è questo filo per tirare su le posca adesso ve le faccio vedere perché sono tutte posca giganti magari ingrandisco un po' ok no così mi sa che troppo perché poi vedrai che sarà ah no vediamo se mi riusciamo a farlo vedere allora non so se il retro è uguale per tutti adesso vediamo che esatto ma ve lo faccio vedere che se no ecco lo sapevo aspettatela ok Non si incollano tra di loro. Non si voglio la pallina, dobbiamo farla da loro. Tra l'altro mi deve arrivare anche l'album dei EXO autografato che ho comprato tramite un go che faceva una ragazza. E niente, mi deve arrivare. Gesù. Ma vabbè ma questo l'ha in cornicio. Ma no, è fisico. Ma perché sti storti adesso? Che bella anche questa. Un po' dritti, un po' storti. Hanno fatto più voto al peso di sugo che tutto il resto. Sti cosi sembra che ne prendo su dieci insieme, invece solo uno. Perché sono davvero spesse. col cappello di lana che in quei costi lì ci sono 45 mila gradi. che bella questa. Ah, ce la faccio. io spero che la SM ci faccia sapere qualcosa su come sta accendendo. Cioè, ok, ovviamente per l'amor del cielo si dovrà prendere anche cura di sua figlia. Però almeno sapere i piani, quando va al militare, se va a un nuovo album. non si sa nulla. Che poi non ho capito se si è già sposato o no. Ovviamente essendo loro cose private. però... Giusto avere qualche info. Oh, guardate che bella anche questa. Caille è veramente una roba illegale. Boh. Cioè... Va beh. Ok, cosa manca? La foto, Caille, basta. Allora... Ah, che ansia. C'è il nome? No. Ok. Il dietro è tutto nero. 3, 2, 1. No, poteva che combo ho trovato Seun nel photobook e Seun nel DVD. Pazzesco. Bene. Per questo unboxing è tutto. C'è un altro similatizzo con la mia trapunta. Vabbè. Noi ci vediamo nel prossimo. Sperando che arrivi nei pacchi di ketchup. Ciao! Ciao!